allora buongiorno benvenuti a questa nuova lezione in cui presenterò quelle che sono le caratteristiche di base del linguaggio java la sintassi e gli elementi fondamentali che costituiscono la base del linguaggio innanzitutto vedremo le differenze rispetto al linguaggio c la prima differenza è che in c normalmente i commenti sono fatti su più linee con slash asterisco mentre invece in java oltre questi commenti è possibile avere anche i commenti con il doppio slash fino alla fine della riga per quanto riguarda i blocchi di codice sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo in c quindi con le graffe che iniziano un nuovo contesto a differenza della versione base di c le versioni originali è possibile definire in java delle variabili anche a metà in qualunque punto di un blocco i costrutti di controllo sono sostanzialmente gli stessi quindi abbiamo gli fels, gli switch, i cicli while, i cicli tipo do while, il ciclo for, i break e continue per interrompere o passare all'interazione successiva di un ciclo per quanto riguarda gli switch a partire dalla java 7 è possibile anche andare a effettuare uno switch non soltanto su un valore puramente numerico ma anche su stringhe per cui è possibile andare a fare uno switch su una variabile tipo stringa e mettere una serie di stringhe come possibili casi sostanzialmente è stata introdotta questa specifica funzionalità perché l'alternativa in c o nelle versioni precedenti di java era quella di andare a scrivere una serie di if in cascata e in questo caso il compilatore in grado di generare un codice che è molto più efficiente un aspetto nuovo all'interno del linguaggio rispetto al c è la presenza di valori booleani espliciti quindi esiste un valore un tipo booleano che può avere due valori vero e falso che corrispondono a queste due parole chiave true e false di conseguenza tutta la parte di costrutti di controllo pretende di avere un valore di tipo booleano quindi non è più possibile utilizzare un intero in sostituzione di un valore booleano ma è necessario avere un risultato booleano per cui ad esempio mentre in c è possibile scrivere qualcosa del tipo x uguale a 7 e if x in java questo non è più fattibile per cui è necessario utilizzare gli operatori relazionali e ovviamente nel momento in cui io faccio x uguale a 0 il risultato di questa assegnazione è un intero e quindi è sinteticamente errato all'interno del codice di un codice java quindi questo sostanzialmente ci porta a evitare gli errori più comuni quando andiamo a scrivere codice c quali sono i due fondamentali tipi di elementi che abbiamo in un programma c noi abbiamo sostanzialmente elementi di tipo strutturale o tipi oppure elementi che noi definiamo in fase di compilazione che sono classi e tipi primitivi questi noi li scriviamo o li utilizziamo all'interno del codice scritto e vengono poi trasformati in fase di esecuzione quindi come elementi dinamici istante o fase di runtime in riferimenti e variabili se volete un esempio in termini di codice in java io posso dichiarare una classe esame con degli elementi in esecuzione noi avremo un frammento di codice in cui avremo la variabile esame che è uguale a new exam e questo sostanzialmente crea un nuovo oggetto di tipo esame analogamente per i tipi primitivi io ho i tipi primitivi che sono già predefiniti non ne posso definire nuovi che poi a runtime posso dichiarare come variabili e queste variabili avranno un'area di memoria esattamente come un'area di memoria avrà questo oggetto e che ho costruito quali sono i tipi primitivi in java sostanzialmente sono quelli predefiniti dal linguaggio quindi interi double boolean via di questo passo sostanzialmente quando io dichiaro una variabile ad esempio in i questo operazione fa alcune alcuni effetti innanzitutto dichiara i come un nome noto ai associato un tipo ben definito in questo caso int e viene allocata un'area di memoria in cui andare a memorizzare il valore della variabile i tipi primitivi definiti in java sono questi quindi abbiamo i valori booleani che sostanzialmente possono essere codificati su un singolo bit i caratteri che a differenza di quanto avviene in c sono codificati su 16 bit perché utilizzano quella che è la codifica utf 16 quindi usano una codifica unicode i byte e questi sono veramente 8 bit un segno short 16 bit gli interi 32 long 64 e poi abbiamo i valori in virgola mobile float e double e ovviamente il tipo void che denota l'assenza di qualunque tipo esattamente come in c abbiamo valori letterali quindi interi long con la l finale possiamo utilizzare una notazione decimale il punto la notazione esponenziale e poi abbiamo caratteri e stringhe per i valori booleani che non esistono in c abbiamo due valori predefiniti come vi dicevo prima che sono true e false abbiamo poi tutti i operatori aritmetici relazionali che funzionano su interi e valori floating point quindi quelli aritmetici quelli relazionali abbiamo le operazioni bit a bit che sono pensate per i valori di tipo intero le assegnazioni e segnazioni con modifica incrementi e decrementi e ricordiamoci che i caratteri in java esattamente come ci sono trattati come degli interi abbiamo poi gli operatori logici and or not exor che sostanzialmente seguono la sintassi c l'unica differenza significativa rispetto al c è che il risultato e soprattutto gli operandi di questi operatori devono per forza essere valori booleani non è possibile utilizzare gli interi come invece avveniva in c questo ripeto permette di ridurre possibili errori di programmazione oltre ai tipi primitivi abbiamo classi e oggetti come ci aspettiamo in un linguaggio di programmazione cosa succede quando io vado a definire una classe o una variabile di tipo classe vedremo tra poco come possiamo andare a dichiarare una classe definirla in termini di attributi e metodi in generale una volta che ho dichiarato una classe questa costituisce un tipo può essere un tipo che ho definito io per i miei scopi o può essere un tipo predefinito ad esempio string se nel codice io vado a scrivere una dichiarazione del tipo exam e questo significa che ho dichiarato e come un riferimento a un oggetto di tipo esame i riferimenti sono sostanzialmente analoghi ai puntatori anche se il loro uso è molto più controllato e circoscritto rispetto ai puntatori che abbiamo in c quindi se volete sono dei puntatori un po' più intelligenti ed eleganti normalmente questi vengono inizializzati con il valore null tutto minuscolo in c si usa null tutto maiuscolo qui null tutto minuscolo è una parola chiave e viene e significa che il riferimento non punta ad alcun oggetto questa dichiarazione non fa nulla semplicemente dice che esiste un oggetto e quell'oggetto per il momento non esiste l'oggetto inizia a esistere nel momento in cui io lo vado a creare ovvero faccio l'operazione di distanziazione con l'operatore new che poi vedremo bene nel seguito quindi quando faccio un new exam a questo punto la virtual machine che esegue il codice andrà a creare nella memoria dinamica un oggetto dove inizializzerà metterà tutti i valori e inserirà dentro la variabile e dentro riferimento e un puntatore a questo oggetto in generale noi non possiamo andare a leggere i puntatori possiamo soltanto utilizzarli questo per evitare tanti problemi che nascono dalla modifica dei puntatori direttamente come viene fatto in C quindi i riferimenti possiamo utilizzarli ma non possiamo leggere cosa c'è dentro ma in pratica sappiamo che c'è un puntatore a una data area di memoria quindi cosa dobbiamo fare per poter utilizzare queste variabili dobbiamo definire una classe la classe sostanzialmente descrive come sono fatti gli oggetti quindi la struttura comune di tutti gli oggetti che sono istante di quella classe e li definisce in termini di suoi membri i membri di una classe sono gli attributi i metodi e i costruttori che sono un caratteristico un insieme particolare di metodi che permettono di andare a costruire l'oggetto quindi ad esempio qui abbiamo una classe car che è dichiarata in questo modo quindi class car diciamo che pubblica quindi è visibile e poi tra queste graffe andiamo a mettere tutti i suoi membri gli attributi in questo caso abbiamo un colore una marca e un valore booleano che ci dice se l'auto è accesa e i metodi un metodo turn on che accende l'auto semplicemente andando a mettere a true questo attributo un metodo paint che colora l'auto con un nuovo colore sostanzialmente prende la stringa che viene passata come parametro e lo mette nell'attributo colore che è questo di tipo stringa e un metodo print state che stampa sostanzialmente lo stato in cui si trova l'auto e stampa auto più la marca più il colore e il motore è on oppure off in funzione del valore booleano di questo attributo questa per chi non lo ricorda è un'espressione condizionale che esiste anche in c e sostanzialmente mi dice che se turn on è vero viene restituito il primo elemento se invece turn on è falso viene restituito il secondo elemento quindi la prima parte che è descritta qua nella nostra classe sono gli attributi che sostanzialmente descrivono quelli che sono i dati che potranno andare a comparire dentro gli oggetti di questa classe sono definiti sostanzialmente con la stessa sintassi delle variabili quindi hanno un tipo e un nome e ovviamente ogni oggetto che andremo a creare di questa classe car avrà una copia una copia scusate di questi tre attributi quindi queste tre variabili i metodi rappresentano invece i messaggi le operazioni che possono essere svolte da un oggetto e in questo caso ne abbiamo tre turn on, paint e print state ovviamente è possibile che i metodi come le funzioni in un linguaggio imperativo proprio procedurale possono accettare dei parametri in questo caso paint accetta un parametro di tipo stringa gli oggetti sono creati a partire dalle classi e quindi quando io creo un oggetto quell'oggetto è sostanzialmente un'entità a sé stante quindi è distinto dagli altri oggetti della stessa classe ha un proprio stato lo stato sostanzialmente è il valore dei suoi attributi e ha un identificatore univoco che nel caso più semplice è sostanzialmente la posizione in memoria in cui si trova questo oggetto gli oggetti possono essere utilizzati ed è possibile accedere ad essi tramite i riferimenti quindi l'unico modo in cui io posso accedere a un oggetto è tramite un riferimento che punta a quell'oggetto in generale io posso avere più riferimenti che puntano allo stesso oggetto ed è un fenomeno che di solito si chiama aliasing dal latino alias vediamo un esempio di come possiamo andare a creare gli oggetti e come possiamo andare a utilizzare i riferimenti per accedervi allora questo è un frammento di codice e proviamo a vedere cosa significano i singoli passi riga per riga allora la prima riga dichiara due variabili a 1 e a 2 di tipo car queste due variabili sono sostanzialmente non inizializzate quindi non puntano a alcun oggetto abbiamo detto che la dichiarazione di una variabile di tipo classe non comporta la creazione anche degli oggetti gli oggetti devono essere creati in maniera separata e distinta quindi ricordiamoci che un riferimento non è un oggetto è semplicemente lo strumento che ci permette di accedere all'oggetto il passaggio successivo è quello di andare a fare a1 uguale new car questa operazione sostanzialmente crea un oggetto a1 nella memoria lo inizializza come descritto nella classe e fa in modo che il riferimento a questo oggetto venga inserito all'interno del riferimento a1 il passaggio successivo è a1.paint yellow che cosa vuol dire? allora andiamo a utilizzare il riferimento a1 per accedere all'oggetto da lui puntato e chiamare il metodo paint a questo metodo passiamo il parametro yellow quindi sostanzialmente a1.paint vuol dire chiama il metodo paint sull'oggetto puntato da 1 e passagli il valore giallo e quindi questa operazione chiama il metodo paint che esegue l'operazione che abbiamo visto prima scritta nella dichiarazione della classe sull'oggetto puntato da 1 passaggio successivo a2 uguale a a1 cosa succede? succede che in questo caso abbiamo copiato il riferimento a1 nel riferimento a2 attenzione se ricordate i riferimenti sono sostanzialmente dei puntatori un po' più evoluti dei puntatori c ma dei puntatori e quindi la copia a2 uguale ad a1 significa che il riferimento a2 punterà allo stesso oggetto a cui punta a1 quindi quell'operazione che vediamo evidenziata non è una copia di oggetti ma è una copia di riferimenti attenzione perché questo può essere fonte di confusione il passaggio successivo è a1 uguale a null cosa vuol dire? vuol dire che io cancello il riferimento che c'è in a1 metto dentro null che significa non punta ad alcun oggetto e quindi dopo aver eseguito quella riga sostanzialmente mi ritrovo con il riferimento a2 che punta all'oggetto inizialmente puntato ad a1 se io faccio ancora l'operazione successiva quindi a2 uguale a null ecco, cancello anche quel riferimento scrivo dentro null e a questo punto il nostro oggetto a1 creato quattro istruzioni prima non è più raggiungibile nel momento in cui in java un oggetto non è più raggiungibile ovvero non esiste nella funzione corrente o in quelle precedenti quindi alcun riferimento che punti all'oggetto quell'oggetto è assolutamente inutile non ci posso più fare assolutamente nulla cosa vuol dire? vuol dire che il meccanismo di garbage collection automatico che è insito nella virtual machine java a un certo punto scoprirà che quell'oggetto è irraggiungibile quindi non è più utilizzabile e quindi andrà a recuperare la memoria farà una deallocazione di quella memoria a questo punto andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le operazioni che abbiamo svolto in questo semplice esempio a parte la dichiarazione che è la prima riga abbiamo creato un oggetto di tipo car tramite la parola chiave new la parola chiave new sostanzialmente crea un oggetto a partire da una classe quindi new seguito da un nome della classe e da parentesi tonde quindi crea un oggetto a partire dalla descrizione che è fatta dentro la classe car che è quella che abbiamo visto poco fa in pratica l'operatore new crea la classe facendo una serie di passaggi il primo passaggio è quello di allocare la memoria necessaria per ospitare l'oggetto quanta memoria serve per ospitare l'oggetto? beh, è abbastanza semplice fare il calcolo perché se noi andiamo a prendere la dichiarazione della classe car vediamo che la classe car ha tre attributi una stringa, un'altra stringa e un valore booleano quanto spazio occupa una stringa in realtà un riferimento a una stringa un riferimento a un'altra stringa e poi un valore booleano il compilatore sa quanto spazio occupano questi e quindi andrà ad allocare uno spazio sufficiente per poter ospitare quelle tre variabili quei tre attributi della classe car dopodiché chiama il costruttore non l'abbiamo definito nel caso della classe car in realtà lo possiamo fare tranquillamente che cos'è il costruttore? il costruttore è un metodo speciale quindi non è di fatto un metodo che io posso chiamare normalmente ma viene chiamato esclusivamente dall'operatore new e ha il compito e lo scopo di andare a inizializzare costruire l'oggetto che sta per essere creato quindi dopo aver allocato la memoria il costruttore cosa fa? ad esempio scrive i valori iniziali degli attributi o in generale può fare qualunque operazione complessa quanto vogliamo perché in realtà è un frammento di codice l'operatore new non è una funzione un metodo normale scusate il costruttore non è una funzione un metodo normale perché non restituisce alcun valore semplicemente gli viene dato un oggetto da inizializzare l'apparello inizializza e lì finisce il suo lavoro a questo punto dopo aver chiamato il costruttore il nostro operatore new ha un oggetto inizializzato prende il riferimento e lo passa come risultato dell'operazione quindi quel riferimento verrà copiato nel riferimento di partenza per cui se io scrivo come nel caso precedente car m uguale a new car new alloca la memoria inizializza e passa il risultato cioè il riferimento all'oggetto appena creato come il risultato di tutta questa espressione che quindi verrà copiato dentro la variabile m dove vengono creati gli oggetti vengono creati nella HIP nella memoria dinamica la memoria dinamica in java è del tutto analoga alla memoria dinamica che troviamo in C solo che in C per gestire la memoria dinamica abbiamo necessità della funzione malloc o calloc e della funzione free malloc alloca la memoria free la libera in java abbiamo new che alloca la memoria non abbiamo nessun modo esplicito per andare a deallocare liberare la memoria perché? perché questo viene fatto in maniera automatica dalla virtual machine come vi dicevo prima nel momento in cui un oggetto è irraggiungibile perché non c'è alcun riferimento che punta adesso viene considerato inutile e quindi viene con i tempi della macchina virtuale rilasciato abbiamo menzionato il costruttore che è un particolare metodo che permette di inizializzare gli oggetti cosa succede? quando l'operatore new crea un oggetto alloca la memoria automaticamente inizializza tutti gli attributi dopodiché chiama il costruttore se non c'è nessun costruttore allora chiama un costruttore di default che sostanzialmente non fa nulla com'è che vengono inizializzati automaticamente gli attributi di un oggetto appena creato vengono inizializzati con i valori di default che sono 0 per tutti i tipi numerici falso per i valori booleani e null come potevamo aspettarci per tutti i riferimenti attenzione questo significa quando creiamo un oggetto con dentro un riferimento quel riferimento automaticamente inizializzato a null questa è una grossissima differenza rispetto a quanto avviene in C dove quando io dichiaro un puntatore quello non è inizializzato quindi punta a un'area a caso nella memoria quindi questa inizializzazione automatica è molto importante per andare a evitare possibili problemi in generale quando io vado a descrivere il costruttore devo fare attenzione a come lo scrivo perché non devo dichiarare alcun tipo di ritorno quindi non devo neanche mettere void devo semplicemente mettere il nome della classe metto nome della classe aperta chiusa tonda se non voglio parametri oppure dei parametri tra le tonde e sostanzialmente mi fermo lì ad esempio se andiamo a vedere la classe car vediamo che possiamo andare a definire un costruttore car quindi il nome del costruttore identico al nome della classe non c'è nessun tipo di ritorno e semplicemente semplicemente inizializza l'attributo color con il colore white quindi questo è quello che fa un costruttore normalmente inizializzare gli attributi con dei particolari colori in assenza di questo costruttore colore diventa nullo brand diventa nullo e turn on risulta falso e questa è l'inizializzazione standard che viene fatta per gli attributi in assenza di un costruttore attenzione gli attributi che non vengono inizializzati dal costruttore restano inizializzati come vi ho detto prima come con i valori di default un altro aspetto interessante dell'interno delle classi e che in generale è possibile a volte avere la necessità di utilizzare un riferimento all'oggetto stesso per cui io posso utilizzare la parola chiave this all'interno di un metodo per fare riferimento all'oggetto su cui il metodo è stato attualmente chiamato ovviamente io non posso utilizzare this ad esempio per fare un riferimento a un oggetto all'interno del main perché il main normalmente non si trova dentro un oggetto non è stato creato nessun oggetto e quindi è al di fuori di qualunque oggetto nell'esempio che abbiamo visto prima abbiamo visto anche che è possibile andare a invocare dei metodi l'invocazione dei metodi avviene con questa sintassi sostanzialmente andando a avere un riferimento a un oggetto punto il nome del metodo e poi aperta e chiusa torna con i parametri al loro interno per cui turn on accende l'auto paint blu colora l'auto di blu in generale ricordatevi che quando io invoco un metodo dall'interno di un oggetto posso evitare questa prima parte cioè il riferimento all'oggetto perché l'oggetto su cui viene chiamato il metodo implicitamente è quello in cui già io mi trovo per cui esempio immaginiamo di avere una classe book con una variabile pages e due metodi read page che permette di leggere una pagina specifica e read all che permette di leggere tutte le pagine il metodo read all in questo caso che cosa contiene contiene una un ciclo da i al numero di pagine e che a sua volta chiama il metodo read page passandogli il numero della pagina read page è un metodo che ovviamente viene invocato sull'oggetto sullo stesso oggetto su cui è stato invocato read all quindi viene chiamato read page sull'oggetto stesso in generale qui è come se prima di read page avessi scritto this.read page in generale io posso lasciare read page da solo oppure posso mettere this. queste due scritture sono assolutamente equivalenti e non c'è alcuna differenza lo mettiamo non lo mettiamo beh è una scelta di chiarezza in alcuni contesti è comodo mettere this per indicare chiaramente qual è l'oggetto perché potrebbe essere magari frainteso se invece non c'è nessuna ambiguità posso tranquillamente lasciare read page questo è un aspetto di stile che viene lasciato al singolo programmatore quindi non è un aspetto che viene definito in nessun standard di codifica posso utilizzare la stessa notazione quindi oggetto punto per accedere non solo ai metodi banca agli attributi per cui dato un oggetto a di tipo car a punto color fa riferimento all'attributo color dell'oggetto puntato dal riferimento a e quindi questo semplicemente assegna il valore blu a questo oggetto scusate all'attributo di questo oggetto cosa c'è di sbagliato qui? beh noi abbiamo detto che una delle caratteristiche fondamentali dell'approccio orientato agli oggetti è l'incapsulamento quindi il fatto che i dati siano racchiusi dentro un oggetto e sia possibile accedere a questi dati dei metodi ecco se io faccio come qui e accedo direttamente ad un attributo sto violando il principio di incapsulamento quindi in generale sebbene sia sintaticamente possibile è preferibile non farlo ovviamente come per gli attributi se io mi trovo in un metodo di un oggetto non ho la necessità di andare a specificare il riferimento all'oggetto quindi non ho la necessità di andare a mettere dis. l'attributo ma posso semplicemente mettere il nome dell'attributo per cui il metodo paint andrò a scrivere color uguale a green senza la necessità di scrivere dis.color uguale in alcuni casi ad esempio questo invece l'uso di dis non solo è necessario non solo è utile ma anche necessario perché come vedete in questo caso il parametro del metodo paint si chiama color l'attributo si chiama color anch'esso quindi questo color a cosa si riferisce? se io non dico nulla normalmente un nome si riferisce alla sua definizione più prossima quindi color senza nulla si riferisce al nostro parametro mentre invece dis.color ovviamente si riferisce all'attributo in questo caso se ho il parametro e l'attributo che hanno lo stesso nome devo per forza utilizzare dis per andare a risolvere l'ambiguità l'uso dei punti abbiamo visto ci permette di andare a accedere a attributi e invocare metodi in generale se un attributo è sostanzialmente un riferimento o se il valore restituito da un metodo è anch'esso un riferimento io posso andare a concatenare una serie di punti quindi system.out .println eccetera 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 in generale può succedere alle volte che io dato un oggetto debba chiamare tante volte tante operazioni su di esso ovviamente l'aspetto negativo in questo caso è che tutte le volte che faccio l'operazione devo andare a scrivere riferimento punto metodo 1 riferimento punto metodo 3 eccetera 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 è possibile evitare questa ripetizione facendo in modo che i metodi che io voglio invocare uno in catena all'altro restituiscano this a questo punto se un metodo restituisce this sostanzialmente quando io faccio riferimento punto metodo il metodo restituisce this ovvero lo stesso riferimento su cui è stato invocato e quindi a quel punto io posso mettere punto ed è come se facessi la chiamata sul riferimento di partenza perché return on this restituisce esattamente quel riferimento e quindi posso andare a concatenare tutta una serie di chiamate piccolo esempio questa è una classe counter che ha un attributo di tipo intero valore e ha tutta questa serie di metodi reset increment decrement e print cosa fanno questi metodi allora reset mette valore a zero increment mette il valore lo incrementa di buy che è il parametro passato decrement ovviamente lo decrementa di buy che è di nuovo il valore passato print semplicemente stampa il valore questi quattro metodi oltre a fare questa operazione che è quella principale per cui vengono chiamati fanno return di this quindi restituiscono un riferimento allo stesso oggetto counter su cui sono stati chiamati questo mi permette di scrivere quello che vediamo qua se io creo cnt che è un nuovo counter posso fare cnt punto reset punto print punto increment di 10 punto print punto decrement di 7 punto print cos'è il risultato? sostanzialmente dov'aveva resettato stampo ottengo zero incremento di 10 e ottengo 10 decremento di 7 e ottengo 3 quindi vedete che questo è un modo molto compatto e tutto sommato semplice basta fare un return di this per andare a scrivere tutta una serie di operazioni su un unico oggetto concatenate una dopo l'altra questo è un modo standard che può essere applicato in tanti contesti ed è un qualcosa che si basa sulle caratteristiche specifiche del linguaggio di solito quando io ho una situazione standard con un problema tipico cioè la necessità che è quello che vediamo qua la necessità di fare tante chiamate sullo stesso oggetto volendo evitare le ripetizioni e se la soluzione è questa abbastanza standard comune al linguaggio di solito questo viene chiamato un idioma ovvero è un modo standard di esprimere qualcosa esistono anche nei linguaggi naturali gli idiomi che spesso vengono detti modi di dire è un qualcosa che mi permette di andare in maniera standard a risolvere un problema che altrimenti richiederebbe perifrasi o espressioni molto complicate quindi è utile poter avere la manipolazione di questi riferimenti attenzione che quando io ho dei riferimenti in java l'unica operazione che posso fare è andare a verificare se sono uguali o se sono diversi due riferimenti sono uguali se puntano lo stesso oggetto due riferimenti sono diversi se puntano oggetti diversi non è possibile andare a fare nessuna aritmetica di puntatori quindi A++ come facevo in C questo in java è sostanzialmente vietato bene a questo punto vediamo un'altra caratteristica interessante di java quello che si chiama overloading in java io posso andare a definire all'interno della stessa classe tanti metodi che hanno esattamente lo stesso nome in C questa operazione non è possibile e non è possibile andare a definire più funzioni con lo stesso nome perché sostanzialmente è una definizione ripetuta e questo è normalmente considerato un errore in java invece io dentro lo stesso metodo posso mettere lo stesso nome qual è il trucco il trucco è che questi nomi questi diversi metodi possono essere uguali purché abbiano quella una certa differenza nella signature la signature che cos'è è composta dal nome e dai tipi dei parametri quindi se il nome è identico io posso cavarmela andando a differenziare quelli che sono i tipi dei parametri per cui io posso andare a definire un metodo che non ha alcun parametro un metodo che ha un parametro string un metodo che ha due parametri string un metodo che ha un parametro string e un parametro int eccetera 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 il trucco in questo caso è che java distingue i metodi non semplicemente in base al loro nome ma in base alla signature che abbiamo detto è nome più tipi questo ci permette di andare a scrivere in maniera semplice tanti metodi simili che hanno esattamente lo stesso nome e poi andare a variare su quelli che sono i tipi cosa che in c non era possibile per cui devo inventarmi suffissi con u, v, e, g, a, k, s per andare a differenziare metodi che sostanzialmente hanno la stessa funzionalità ma variano leggermente nei parametri qui uso il nome e semplicemente metto i parametri diversi ovviamente quando io ho un'invocazione di un metodo per il quale non esiste un'unica variante devo risolvere questa ambiguità l'ambiguità come viene risolta? viene risolta dal compilatore andando a vedere quali sono i tipi dei parametri che io ho passato nell'invocazione in base a quei tipi si deduce quale delle varianti overloaded deve essere invocata qui ad esempio all'interno della classe car io potrei andare a definire tre varianti del metodo paint quindi tre overload del metodo paint una senza parametri che inizializza con white una con un parametro che prende l'intero e lo codifica in qualche modo in un colore e una terza con una stringa che semplicemente copia la stringa nell'attributo color ecco se invoco il paint senza parametri verrà chiamato il primo se invoco paint con un parametro intero verrà chiamato il secondo se invoco paint con una stringa con un parametro stringa verrà invocato il terzo l'overloading oltre ai metodi può essere anche applicato ai costruttori per cui posso definire tre costruttori diversi i costruttori per definizione devono avere lo stesso nome devono avere il nome della classe e posso differenziarli in base ai parametri che passo per cui ad esempio un costruttore senza parametri come questo inizializza l'auto con un colore rosso e come marca Ferrari se passo una marca l'inizializzazione avviene con il colore bianco e come marca quella che ho passato come parametro se passo due parametri stringa il primo è la marca e il secondo il colore che vengono utilizzati per andare a inizializzare l'attributo color e brand rispettivamente quindi anche nella costruzione degli oggetti posso andare a avere una certa libertà definendo tanti costruttori quanti sono utili per andare a costruire questi oggetti abbiamo visto i costruttori e i distruttori ecco per simmetria potremmo aspettarci che oltre ai costruttori esistano i distruttori bene in Java non ci sono ci sono in altri linguaggi ad esempio in C++ ma in Java non esiste nessun modo esplicito di andare a rilasciare la memoria di un oggetto la memoria viene automaticamente rilasciata dal garbage collector quando si accorge che un oggetto non è più raggiungibile non esistono più riferimenti attivi a volte può essere utile fare qualche operazione quando rilascio un oggetto immaginate che l'oggetto rappresenti che so la connessione a un dispositivo fisico la connessione di rete in cui devo magari andare a rilasciare risorse o altro ecco posso fare questa operazione andando a definire un metodo che si chiama Finalize questo metodo viene chiamato dal distruttore scusate dalla macchina virtuale quando distrugge l'oggetto se è presente se non c'è niente la memoria viene semplicemente deallocata e recuperata e resa disponibile per altri oggetti quindi il ciclo di vita di un oggetto prevede sostanzialmente quali sono i fasi del ciclo di vita del software sostanzialmente innanzitutto viene dichiarato un riferimento ma l'oggetto ancora non esiste viene creato l'oggetto tramite new l'oggetto può essere utilizzato tramite il suo riferimento chiamate metodi e quant'altro quando il riferimento viene perso perché in questo caso esco dal contesto in cui la variabile locale c è valida sostanzialmente l'oggetto diventa irraggiungibile e prima o poi la virtual machine le specifiche della virtual machine non mi dicono nulla su quando questo verrà fatto la virtual machine rilascerà la memoria rendendola disponibile per altri oggetti a questo punto mi fermo qui questi sono i concetti base fondamentali che riguardano il linguaggio java nella lezione di prossima cercheremo di andare avanti e capire quali sono gli aspetti fondamentali e anche come possiamo utilizzare uno strumento di sviluppo come eclipse per andare a scrivere del codice non 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 non